Ciao a tutti i fan e gli amici della pagina dell'ortodio. Quello che vedete lì sul tetto di casa mia sulla sinistra è il mio impianto solare termico. E vi voglio parlare rapidamente proprio di questo perché anche se ne parlo sempre qualcuno recentemente mi ha chiesto ma perché non spieghi come fai tu a vivere? E allora partiamo dalle cose più importanti, come abbattere di molto le bollette di gas e corrente che in questi ultimi periodi sono altissime. La cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno è l'acqua calda e la maggior parte delle persone la scalda o con il gas o con la corrente elettrica, con gli scaldabagni o con le caldai a gas o con gli scaldabagni elettrici. Ma noi abbiamo il sole, abbiamo il sole che ci scalda e il sole se bisogna trasformare e il calore del sole e la luce del sole in corrente elettrica, con i pannelli fotovoltaici quegli altri lì sulla destra, per produrre corrente c'è una grossa dispersione quindi i pannelli rendono un 10, un 15, un 20%, non lo so, poca roba. Mentre l'impianto solare termico non deve trasformare niente, il calore del sole diventa calore per l'acqua, non c'è trasformazione, quindi è una rendita altissima dell'80, 90, forse anche del 100%. E infatti io grazie a quell'impianto ogni giorno ho 300 litri, vedete il serbatoio è da 300 litri, di acqua caldissima a 80-90 gradi che mi serve un po' per tutto. Prima nel 2014 ne comprai un altro, ho pagato 300 euro, 400 euro con la spedizione compresa, l'abbiamo montato da solo io e mio papà e ci ho fatto fino al 2020. Però era un po' piccolino, poi si era riempito di calcio, allora adesso ho messo questo nuovo, l'ho fatto fare dalla ditta specializzata, con gli incentivi l'ho pagato solo 1500 euro, però ve lo ripagate in pochissimo tempo, perché appunto io per esempio la caldaia non ce l'ho proprio, quindi questo impianto qui è un impianto a circolazione naturale si dice, però esistono anche quelli a circolazione forzata che possono essere collegati alle caldaie, quindi anche se avete la caldaia lo potete mettere aggiuntivo. Tutte le volte che c'è il sole, il sole vi scalda l'acqua, vi porta l'acqua a 80-90 gradi, voi avete l'acqua calda per lavarvi, ma non solo per lavarvi, potete prendere l'acqua calda per lavare il pavimento, queste cose qua, io diciamo a me non è che mi arriva a 80-90 gradi, l'ho miscelata a 60, se no rischio di ustionarmi, comunque prendo l'acqua calda già a 60 gradi quando devo cucinare la pasta, o quando devo bollire le patate, tutte le volte che in cucina mi serve acqua calda, appunto per pulire casa, e anche la lavatrice, attenzione, la lavatrice se comprate i modelli nuovi hanno già anche l'attacco per l'acqua calda, se no se avete un modello vecchio basta fare un accrocco con un miscelatore, fate sempre le lavatrici a 0 gradi e l'acqua calda ce la mandate direttamente dallo scaldabagno che ce l'avete avuto gratis, quando non c'è il sole, se avete la caldaia lavorerà la caldaia, se avete lo scaldabagno, lo scaldabagno elettrico accendo quello, però tutte le volte che c'è il sole avete tantissima acqua calda gratis ogni giorno, e l'acqua calda a differenza della corrente si conserva facilmente, basta un boiler come quello e si conserva per parecchie ore, per tutta la giornata, anche per il giorno dopo, quindi con un investimento del genere, ecco se volete vi indico anche la ditta dove ho fatto questo lavoro nel 2020 pagando 1500 euro, quindi con una spesa di massimo 1500 euro, perché quello è un impianto per due famiglie, doppio pannellone 300 litri, poi dopo abbatterete tantissimo le vostre bollette, perché il gas per cosa lo usate? Quasi solo per scaldare l'acqua, per lavarvi, per i riscaldamenti, chi ce lo scaldabagno usa anche la corrente per scaldare l'acqua, quindi con l'impianto solare termico, questi 1500 ve li ripagate in meno di un anno, non state tranquilli, quindi il primo consiglio che vi do, poi magari ne arriveranno altri, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere se siete interessati, ma il primo consiglio che vi do è un fantastico impianto solare termico che trasforma acqua fredda in acqua calda senza nessun tipo di energia, ma semplicemente col calore del nostro caro sole. E su questa vi saluto, ciao belli, buona giornata. Grazie.